Ed è in questo preciso istante che Marcello e Silvio hanno preso la decisione che svolterà le loro vite Fondare un partito Praticamente sta portando in giro Silvio E questi sono i putini belli, la nostra Chiara Ferragni che esce dall'acqua dei forti e dei marmi Voi vi immaginate essere al mare e state nuotando, a un certo punto vi voltate e vedete Chiara Ferragni E poi altra Ferragni, altra spiaggia, siamo pronti ad Albero Chiudiamo con le fette del giorno, molto estive, molto soleggiate Ci vediamo al prossimo video, ciao!